Ciao amici, si è appena concluso l'allenamento del Legnano e ai nostri microfoni torna un graditissimo ospite, Fabio Rovolina. Ciao Fabio. Salve, buonasera. Senti, allora ti chiedo innanzitutto un commento generale sulla preparazione che ormai sta finendo, il precampionato sta finendo, come è andata finora? Sì, stiamo finendo il ritiro, tra virgolette, abbiamo fatto un mese e mezzo di allenamenti, siamo allenati tanto, ci siamo preparati e ci stiamo preparando per l'inizio del campionato, adesso speriamo di arrivare subito pronti, anche perché è settimana prossima, questa settimana. Allora ti chiedo anche, in realtà la stagione ufficiale è già iniziata con la Coppa Italia, adesso c'è la seconda partita con il San Colombano, c'è obbligo di vittoria? Sì, se vogliamo passare dobbiamo vincere, domani andiamo a giocarcela come abbiamo giocato l'altra partita, cercheremo di vincere, cercheremo di giocare, cercheremo di fare quello che abbiamo provato in questo mese e mezzo e vediamo. Lo spirito è buono comunque, spogliatoio in campo, si vede comunque che c'è già affiattamento. Sì, stiamo facendo, cercando di fare gruppo, cercando di stare tutti insieme per arrivare in campionato e darci una mano a tutti quanti. Perfetto, allora ti lasciamo andare a fare la doccia, grazie Fabio sono predisponibilissimo, buona serata. Grazie a voi, salve.